Dall'8 di dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, anche Caltanissetta si vestirà tema natalizio, con le luminarie e l'accensione dell'albero di Natale. A tutto questo si aggiungerà il villaggio di Natale. Infatti, dall'8 di dicembre fino all'8 di gennaio, in piazza Garibaldi ci saranno le casette, dove saranno esposti prodotti artigianali, agroalimentari e non solo. Il villaggio di Natale si pone come obiettivo alla promozione delle eccellenze locali e siciliane del buon cibo, delle arti e delle tradizioni, coinvolgendo aziende di produzione, commercializzazione e associazioni. Il villaggio sarà costituito da 15 casette di legno e si svolgeranno nei fine settimana dell'8, 9, 10 e 11 dicembre, 22, 23 e 24 dicembre, 29, 30 e 31 dicembre e 6, 7 e 8 gennaio. Oltre agli operatori economici di prodotti artigianali e agroalimentari saranno presente hobbysti e produttori di oggettistica locale e operatori economici di prodotti floreali. Per partecipare alla manifestazione si dovrà pervenire la domanda entro e non oltre le ore 10 del 28 novembre al sito del comune di Caltanissetta, dove si potrà compilare il modulo di iscrizione per avere la casetta a titolo gratuito. Sarà un villaggio di Natale, rivolti a quanti hanno voglia di poter esporre i propri prodotti, sia nel campo gastronomico che nel campo dell'artigianato. Ovviamente non ci saranno dei prodotti industriali, infatti l'avviso parla chiaro. A tra proposito vi invito a visionare il sito del comune proprio per poter aderire alla richiesta dell'utilizzo delle casette, che ricordo sono assolutamente messe a disposizione e quindi gratuitamente. Sarà un villaggio che prenderà inizio l'8 dicembre con l'accensione dell'albero di Natale, quindi delle luci dell'albero di Natale e quindi arricchito anche quest'anno dalla presenza del villaggio. Il villaggio che sarà aperto tutti i fine settimana, a partire appunto dall'8 dicembre fino al 8 di gennaio. Durante i fine settimana si alterneranno anche una serie di eventi rivolti ai bambini, perché anche quest'anno sarà un Natale speciale, un Natale che verrà rivolto per emozionare i nostri bambini.